Si chiama a bella vita l'operazione della Guardia di Finanza di Taormina contro il riciclaggio. L'inchiesta ha portato a quattro ordinanze di custodia cautelare al sequestro di beni pari a 2 milioni di euro. Due arresti sono stati eseguiti in Sicilia, due in Lombardia. Il GIP Monica Marino ha firmato i provvedimenti a carico di Antonino Niscita, 65 anni, imprenditore del settore turistico di Taormina. Rocco Frisone, 72enne di Letoianni, Angelo Mule, 62enne imprenditore di origini siciliane e Patrizia Tretti, 58enne. Questi ultimi due sono residenti a Brescia. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato partecipazioni societarie degli indagati, tra cui il 10% del capitale sociale pari a un milione di euro di un noto albergo a 5 stelle di Taormina, il 51% del capitale di un noto ristorante, 4 immobili, tra cui un villino catastati a Taormina, e poi denaro, conti correnti bancari, polizze assicurative e altri strumenti finanziari per una cifra complessiva di 2 milioni. L'indagine, seguita dal sostituto procuratore Francesco Massara, è partita nel 2014 dai finanzieri che avevano scoperto l'esercizio abusivo di un'attività finanziaria guidata da Niscita che aiutava persone in difficoltà economica, difficoltà causata per lo più da perdite al gioco. L'aiuto aveva un altro obiettivo. Niscita e Frisone, secondo l'accusa, stavano per riciclare quasi 2 milioni di euro per conto di Mule. Quest'ultimo denunciato in passato per reati tributari. Il lavoro della finanza ha permesso così di tracciare e quantificare il patrimonio accumulato e occultato dal lavoro dei quattro negli anni.